Buongiorno 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 Il ricordo del ministro San Giuliano sapeva trasmettere il sacro. Una serie di incidenti ci sono stati proprio nella giornata di ieri, in modo particolare questo che ha visto la morte di un'anziana donna di 83 anni a Calcinelli, poi vedremo come è andato. E poi il rappresentante del PD, Marco Perugini, parla di un furto su commissione, è sparita la sua auto e ritornano ancora i furti a Villa Fastigi, le segnalazioni del presidente del quartiere che ribadiscono che servono maggiori controlli in questo quartiere pesarese. Mentre a Montegiove spunta lo sciacallo, si è preso il posto del lupo. Strada a Montefabbri, Odissea per recuperare un tir finito in un campo, abbiamo anche le foto, ne abbiamo parlato anche noi ieri nel nostro telegiornale. E poi lo sport, vis, è importante questa giornata, battere la lucchese per sperare ancora, la VL invece è tempo scaduto, sabato sarà senza il pivot. E allora, appunto, mentre ci continuate a scrivere i saluti, vi ringrazio, scriveteci anche che cosa farete per queste prossime vacanze di Pasqua e soprattutto quali sono le ricette della tradizione, della vostra famiglia, del vostro comune, perché sono curiosa, insomma, di vedere un po' che cosa mangerete in queste prossime vacanze. Intanto andiamo ai fatti di cronaca, perché qui il resto del Carlino apre subito con un focus su Villa Fastigi, dove tornano i ladri, un raid in via Achilli, la casa è stata completamente ripulita e allora qui vedete Massimo Giamprini e Luca Pandolfi davanti al palazzo dove hanno derubato una coppia lo scorso sabato. Qui servono, appunto, maggiori controlli. Dopo mesi riesplode la paura dei furti che aveva fatto intervenire anche il questore in prima persona. Nell'ultimo caso i banditi hanno fatto eruzione in un appartamento e sono scappati con dei gioielli per 6.000 euro. Dopo circa 10 minuti i carabinieri arrivano in questo appartamento appena svaliciato per fare tutti i rilievi del caso, assicurandosi che non ci fosse più nessuno in casa. A quel punto l'uomo viene richiamato in caserma per sporgere la denuncia. Non abbiamo chissà che speranza nel ritrovare i nostri gioielli. Anche i carabinieri ci hanno detto che non vogliono darci false illusioni. Insomma, sono cose veramente gravissime. La visita del questore Raffaele Clemente un anno fa, l'anno scorso, un'ondata di furti colpì Villa Fastigi, ve lo ricordate bene. Il 3 marzo 2023 il questore Clemente andò nel quartiere per incontrare i residenti. E poi qui abbiamo altri racconti di truffe. Abbiamo visto le truffe telefoniche. Attenzione, mi raccomando, non date mai dati personali o codici di carte di credito al telefono e non credete mai a quanto vi viene detto da persone che si presentano come eventuali assicuratori oppure titolari di coloro dipendenti di banca. Insomma, non ci credete, ma in questo caso si parla invece di una donna dell'Est che è stata avvistata a Pesaro. Prima chiede indicazioni stradali, poi avanza la vittima, designata e infine tenta il colpo grosso, cioè cerca di rubare dei Rolex alle persone che incontra. È una donna formosa sui 30-35 anni, capelli neri con i riflessi rossi tirati dietro la nuca, nazionalità dell'Est con un buon italiano e un complice da qualche parte nella zona di Viale Piave, accanto a Rocca Costanza. Leggo bene perché insomma almeno ponete anche voi l'attenzione. scusi sto cercando via San Martino, me la sa indicare. Poi guarda il polso della vittima prescelta, vede se ha un orologio di valore, la vittima insomma viene poi fermata, lusingata, alla vittima vengono fatti dei complimenti eccetera. Poi dice la donna io sono molto brava a fare massaggi, venga con me a un certo punto, qui racconta l'uomo che è stato poi addescato, mi viene addosso e mi dice tu sei un uomo molto bello, a quel punto ho mangiato la foglia ed appena ho sentito che mi afferrava il polso ho immediatamente allargato la mano per non far scivolare via l'orologio, tra l'altro un Rolex farlocco che uso per lavoro, dice questo uomo che è stato appunto fermato da questa donna. Attenzione, attenzione, mi raccomando non dare troppa confidenza, soprattutto queste persone che si fiondano in questo modo. Poi trovate oggi sul resto del Carlino due pagine dedicate a Giuliano Vangi. La moglie Graziella dice 70 anni insieme, mai un giorno lontani, pensate che bella storia d'amore, i ricordi dell'inseparabile compagna di vita, dello scultore, scomparso martedì, ero una liceale, lui insegnava al Mengaroni, da allora non ci siamo più lasciati, che storia romantica di questo bel racconto. Un personaggio rinascimentale, quell'amicizia con Mario Botta che li portò fino in Corea. Intanto giunge il cordoglio del Ministero della Cultura a San Giuliano e Vittorio Sgarbi oggi sarà ai funerali. Ieri ha raccontato insomma il suo omaggio, il suo pensiero per questo grande artista. I funerali si terranno oggi alle 15 al Duomo e il corpo verrà cremato e tumulato a Pesaro. E poi il legame anche con Fano insomma. L'opera incompiuta dell'uomo vitruviano sarà il suo testamento, da Arastat a Palazzo Bracci, Pagani, fino alla Fontana della Concordia. Tante le tracce del suo percorso artistico nella città della Fortuna. E allora qui la Fondazione ritiene di omaggiare questo sommo artista quando decise nel 2016 di inaugurare Palazzo Bracci. Fu un doveroso riconoscimento alla grandezza di questo scultore, l'inizio di un rapporto con il maestro che è continuato fino ad oggi. E poi parliamo della politica, elezioni, quelli che ritornano. Zanotti candidato con Forza Italia guidò la coalizione di centrodestra nel 2004, l'anno in cui poi a diventare sindaco fu proprio Ceriscioli. Ora entra nella lista degli azzuri a sostegno di Lanzi. Questa città ha bisogno di cambiamento. Marco Zanotti scende di nuovo nel lagone politico, alle prossime amministrative e correrà nella lista di Forza Italia, nella coalizione di centrodestra per supportare Lanzi. Classe 1946, Zanotti da manager per 33 anni, è stato il direttore generale della Febal Cucine. Al grande pubblico il suo volto rievoca le amministrative del 2004. E qui lo vedete assieme a Gianmarco Cecconi, che è il segretario del partito, che dice felici di avere uno come lui al nostro fianco. E allora, andiamo ancora avanti. Quello che è successo a Marco Perugini, che vedete qui il presidente del Consiglio Comunale racconta la sua disavventura. Mi hanno rubato l'auto, un furto su commissione. Occhio perché accade anche qui. Tra le vittime dei furti d'auto su commissione c'è anche Marco Perugini, a cui hanno rubato la sua nuova Ford Cuga. Sono tali quei furti messi a segno per ricavare pezzi di ricambio specifici. Purtroppo è quello che ho imparato a mie spese, dice Perugini. I ladri per prendergli l'auto sono venuti in ottempo dalla Puglia. In mano un foglietto con su scritto la targa del veicolo attenzionato. E una volta trovata, parcheggiata vicino alla residenza, bellamente se ne sono impossessati. Per gli investigatori i ladri non ci hanno messo molto ad individuarla, mentre per aprirla, metterla in moto e portarla via, ci avranno impiegato sui 5 minuti scarsi. Pensate, grazie al sistema di telecamere che monitorano il perimetro urbano, o le foto della mia auto che alle 5.48 del mattino se ne va da Pesaro imbocando il casello autostradale. E poi andiamo ancora avanti perché appunto si avvicinano queste festività pasquali e allora attenzione, cogliete l'occasione se state nella provincia di dedicarvi anche all'arte e alle bellezze che potete andare a visitare. La città di Pesaro offre diversi percorsi, tra cui quello archeologico, dall'Oliveriano a Via dell'Abbondanza, ha opportunità in vista anche per gli appassionati delle due ruote. Quindi da domani a lunedì 1 aprile a Pesaro si offre un ventaglio di iniziative culturali. Da domani a Pasqueta saranno aperti Palazzo Mosca, Musei Civici con le splendide raccolte di ceramica, la Casa Natale di Rossini, il Museo Nazionale di Rossini e poi ancora i Musei Civici, Palazzo Ciacchi con l'allestimento rinnovato che propone di dipinti, ceramiche, arti decorative. Per gli appassionati di archeologia da domani al 1 aprile è possibile anche visitare Palazzo Almerici, sede del Museo archeologico Oliveriano che documenta mille anni di storia. Per gli avanti delle due ruote Pesaro offre da venerdì a lunedì la possibilità di visitare il Museo della Bicicletta di Palazzo Gradari con 40 bici da corsa in un excursus cronologico dal 1930. Se non avete visto il Museo della Bicicletta, fatelo perché si trova a Palazzo Gradari, è molto comodo ed è anche molto curioso. Andiamo a vedere, regia, un attimo i messaggi. Chissà se ci stanno scrivendo come passeranno i nostri amici le festività pasquali. Intanto Francesca, buongiorno. Oggi impasto la crescia per la colazione di Pasqua è un rito, un gesto per ricordare, sentire vicino chi non c'è più, la nonna in particolare che la preparava per tutta la famiglia. Come ti capisco Francesca, anche mia nonna faceva una crescia di Pasqua meravigliosa a Urbania. È un pane con le uova come decorazioni che poi sabato vado a benedire uno dei tanti modi di farci la buona Pasqua. Grazie Francesca per questo bel racconto. Andiamo a vedere anche gli altri. Mattino di Pasqua, colazione con crescia di Pasqua, uova, sode, benedette, salame. Apertura delle uova di cioccolato. Ah, vedi, Loredana apre le uova la mattina. Vedi, questa è una cosa curiosa. Però, insomma, crescia di Pasqua. Fantastico, col salame poi meraviglioso. Poi, Daniele, per me la Pasqua è da sempre caratterizzata dalla tradizionale colazione, crescia di Pasqua, uova benedette, salame, formaggio pecovo. Ecco, anche il formaggio pecorino giustamente si sta benissimo. E chi ama la colazione salata come la sottoscritta, a Pasqua andiamo veramente a nozze, ci gustiamo questi prodotti salati sin dalla prima mattina. Riccardo, nel menù di Pasqua non mancherà la colazione con cresce uova benedetto come la tradizione di famiglia. che belle le tradizioni. Io, a leggere i vostri messaggi, già mi sento veramente, sento il profumo della crescia la mattina della Pasqua, con una giornata di sole, con il pecorino, il formaggio, il salame, i ricordi, i nostri ricordi di quando eravamo bambini, i nostri nonni, le nostre nonne che facevano squisitamente la crescia di Pasqua, veramente un tuffo nel passato. bellissimo, continuate a scrivere i vostri messaggi, i vostri ricordi della Pasqua, come passerete la Pasqua e anche magari cosa mangerete a pranzo, chissà. Sono veramente molto belli i vostri racconti. Andiamo, continuiamo con le notizie. Qualche notizia flash, intanto appuntamento domani alla Lusfera in Piazza del Popolo alle ore 18 perché c'è Roberto Burioni che racconta la battaglia della scienza contro il canale. Ancora un appuntamento molto interessante che rientra appunto negli incontri dedicati alla Capitale 2024. E poi, slitta il 31 maggio la scadenza per i pagamenti del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria inizialmente prevista per il 31 marzo. Lo ha annunciato il presidente della provincia Peppino Paolini che salutiamo. E poi taglio del nastro. Il distretto inaugura oggi alle 11.30 ci saranno anche le telecamere di Rossini TV il famoso mammografo che verrà appunto collocato in via Nanterre. E poi ci sono buone notizie per quanto riguarda la banca di Pesaro, la banca del territorio. Il bilancio sorride un utile netto di 10 milioni. Una banca, come sapete, molto presente in tutte le iniziative a supporto dello sport, della cultura e anche delle e soprattutto delle imprese locali. E poi Santa Maria dell'Arzilla una scuola la scuola pronti 452 mila euro serviranno a renderla moderna. Guardate questo progetto di riqualificazione energetica di questa scuola primaria appunto a Santa Maria dell'Arzilla come verrà fatta. Ci sarà il fotovoltaico sul tetto, contenimento della dispersione del calore, 5 nuove aule al piano terra, palestra, spazi di socialità. L'assessore Pozzi dice andremo a migliorare la vita degli alunni. E allora qui vedete la strategia. L'operazione si aggiunge ai 35 milioni di euro in progetti che l'amministrazione ha destinato all'edilizia scolastica. Sono investimenti che abbiamo scelto di concentrare nelle scuole patrimonio della nostra comunità. E queste sono le belle parole appunto dell'assessore Pozzi. E poi sbarrata attenzione via San Francesco si stanno facendo lavori nel sottosuolo le auto potranno uscire dalla piazza passando solo verso corso 11 settembre. Marche Multiservizi si appresta ad intervenire anche in strada sotto le selve. Quindi per almeno un mesetto via San Francesco sarà chiusa al traffico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 attenzione per consentire questi lavori di impermeabilizzazione del vallato l'antico canale sotterraneo di approvvigionamento acqua per l'attività mollitoria alla fine del corso 11 settembre e quindi c'è questa deviazione a cui dovete fare attenzione. E poi pianeta occupazione sapete ieri è stata fatta questa analisi dove nella provincia di Pesaro Urbino è stato notato che praticamente tanti sono i contratti di precari i lavoratori precari contratti a breve termine contratti addirittura alla giornata a mezza giornata e allora oggi parla Moreno Bordoni che è segretario della CNA Marche il trionfo del precariato inevitabile troppa incertezza per le nostre aziende infatti Moreno Bordoni dice spiega i dati sul lavoro purtroppo siamo nel mezzo della tempesta perfetta oggi un imprenditore fa fatica a fare previsioni da qui a un mese insomma veramente la situazione non è tanto rosea però abbiamo anche delle situazioni per fortuna nella nostra provincia di Pesaro Urbino molto belle che sono di esempio e stiamo parlando dell'azienda La Saponaria che nel giro veramente di pochissimi anni è arrivata ad avere oggi 45 dipendenti sapete loro producono cosmetici biologici naturali noi cerchiamo di stabilizzare tutti niente contratti di somministrazione e tanta formazione crediamo nei nostri dipendenti allora continuate a scriverci quello che farete a Pasqua che sono curiosa come passerete la giornata che cosa mangerete se avete delle ricette della tradizione intanto fatti di cronaca picchia la convivente nella notte e questa è la notizia che trovate anche nella prima pagina i vicini sentono e chiamano il 112 è stato arrestato un 45enne di Montelabate per maltrattamento in famiglia la donna è stata portata in ospedale lui per fortuna arrestato è qui la storia bruttissima di violenza sulle donne ha iniziato a picchiare la compagna le due di notte forse perché ubriaco o per abitudine una cosa veramente terribile la casa è nel centro di Montelabate urla richieste di aiuto rumore degli oggetti che si rompono i vicini hanno chiamato i carabinieri per farli accorrere il prima possibile la donna è corsa da loro per proteggersi mentre il compagno 45enne originario di Sasso Corvaro ma domiciliato a Montelabate intendeva continuare col repertorio di poco prima i carabinieri hanno cercato di calmarlo ma senza fortuna intanto la donna di 37 anni è stata portata in ospedale perché presentava delle chimosi molto molto forti oggi è prevista la direttissima per l'aggressione avrà la possibilità di spiegare l'accaduto ma è più probabile che si avvalga della facoltà di non rispondere insomma c'è poco da rispondere insomma direi io quando si fa un gesto dei gesti simili verso le donne e sono veramente terribili e poi lo sapevamo già insomma Palmiro Chielli è pronto al terzo mandato io sono pronto il sindaco tira le somme di questi 10 anni e guarda avanti ma non dico niente per scaramanzia e allora insomma vedete che lui è pronto per portare avanti il suo percorso intanto stamattina alle 10 viene inaugurata la nuova sede di carico e scarico camper nella zona diacente al centro commerciale Arcovaleno di Montecchio siamo sempre a Vallefoglia quindi se volete partecipare questa mattina alle ore 10 e a Fano finalmente è passato questa volta di notte quindi è stato meno in piccio diciamo così per la viabilità quotidiana e giornaliera e infatti questa volta è passato questo yacht da record uno show per pochi che magari a quell'ora erano svegli o passavano per le strade fanesi curve da brivido in due ci rimettono l'auto perché? perché questo gigante della Benetti ha attraversato la città di Fano manovre proprio al millimetro pensate guardate quanto è grande il carroattrezzi rimuove due veicoli in prossimità dell'hotel Cristallo perché purtroppo non riusciva a passare questo grande yacht 45 metri questa volta appunto l'operazione si è svolta nel silenzio della notte tra strade semi deserte anche se l'impatto visivo del mega yacht è stato comunque spettacolare vedete qui anche che cosa pazzesca veramente un'immagine un po' da film e prima di andare a vedere la pagina 19 Tiziana mai mangiato le uova e la cresce la mattina solo al pensiero mi viene il mal di pancia ecco eh sì sono tradizione Tiziana che non tutti hanno effettivamente chi non ama i gusti salati la mattina fa un po' fatica a mangiare le uova e la cresce eccetera io mangio anche la frittata la mattina ho proprio un gusto particolarmente salato e quindi per me mangiare le uova è molto è una cosa usuale però immagino chi invece è abituato a mangiare il dolce pensare di mangiare la cresce insomma cose anche piuttosto pesanti un po' spaventa buongiorno Nicoletta Tagliabracci la nostra conduttrice di Rossini TV intanto andiamo a Rosciano che è stato avvistato uno sciacallo nelle colline di questo territorio si tratta della prima segnalazione autentica in provincia a fotografarlo al confine con Montegiove il naturalista fanese Luigi Ricci l'espasione del canis aureus dipende anche dalla decimazione del lupo lo sciacallo fanese è con tutta probabilità un giovane errabondo potrebbe essere una prima avanguardia come potrebbe non essere solo vista la facilità a confonderlo con volpe e lupo e poi Ponte Metauro festa sia un 2 aprile formato famiglia appuntamenti religiosi e intrattenimento nell'area del santuario street food magia animazione rievocazioni storiche con la pandolfaccia si inaugura il murales dedicato a Don Gualfardo e realizzato dai ragazzi del centro di aggregazione appunto a Ponte Metauro e poi verso il voto qui vediamo dei volti noti che presentano una lista civica a supporto del centro-destra di Luca Serfilippi tanti volti noti in lizza come ad esempio Marco Ferri ex direttore di Fano TV e Cecchini che anche lui insomma era presidente della carnevalesca ma andiamo a vedere che cosa è successo a Cogli al Metauro perché in questo grave incidente è morta una povera donna di 83 anni residente a Lucrezia si è scontrata con un'auto guidata da un trentenne ucraino finito addosso a un albero un terribile incidente nel primo pomeriggio di ieri a Calcinelli è costato la vita una donna di 83 anni la vittima è Ornella Ordoselli vedova residente a Lucrezia la signora stava viaggiando lungo la Flaminia in direzione Maremonte in sella al suo ciclomotore Piaggio Liberty quando all'altezza del Bivio per la zona industriale di via Laghi è stata urtata violentemente da una Peugeot 208 che proveniva in senso contrario al volante dell'auto un trentenne di origine ucraine anche gli di Lucrezia trasportato in ambulanza all'ospedale regionale di Torrette secondo una prima ricostruzione la macchina sarebbe stata in fase di sorpasso per questo ha invaso la corsia opposta e ha urtato la povera nonnina di 83 anni che purtroppo non ce l'ha fatta andiamo a Urbino il 5 Stelle e i candidano Roberto Balduini riportiamo gli abitanti nel centro storico questa è la missione di Federico Scaramucci candidato sindaco con la coalizione La città che verrà quindi vediamo un po' che cosa accadrà e se ci saranno delle novità insomma per la città di Urbino dopo Maurizio Gambini e poi qui abbiamo questo racconto di un camion che è caduto in una scarpata illesi i conducenti due uomini di circa 40 anni che si sono definiti veramente miracolati per essere sopravvissuti a questo veicolo in mane che è caduto ecco in questa scarpata un tir che trasportava un carico di divani mezzo distrutto lunghe ore per recuperarlo e però per fortuna i due conducenti sono salvi e poi una notizia che riguarda la Raffaello Gravel per scoprire il territorio il ciclo ducale ha presentato con Confcommercio l'evento che richiamerà tantissimi appassionati il prossimo 16 giugno con la novità appunto della Raffaello Gravel ma parliamo anche di appuntamenti ad Apecchio la Passio commuove e meraviglierà tutti Seravalle di Carda si prepara rito religioso e teatrale grande cura per costumi e scenografie ritorna quindi la Passio la tradizione della sera del venerdì santo alle ore 21 che quest'anno è alla sua 42esima edizione tutto organizzato dalla Proloco di Seravalle di Carda e Monte Nerone allora Nicoletta Tagliabracci che lei è sommelier esperta di cucina che cosa proporrà per il menù di Pasqua voglio sentire un po' che cosa che cosa mangerà visto che è esperta insomma di arte culinaria ha scritto dei libri dedicati anche a questo argomento sentiamo un po' che cosa ci racconta e continuate a raccontarci voi che cosa come celebrate la Pasqua dal punto di vista culinario intanto vediamo la prima pagina del Corriere Adriatico le scuole sono un cantiere avviati i lavori alla Lighieri e dopo Pasqua parte l'Anna Frank entrambe verranno abbattute e poi ricostruite l'ex Scarabocchio procede spedito stanziato mezzo milione per la primaria di Santa Maria dell'Arzilla e poi la fotonotizia del Corriere Adriatico vedete racconta questa povera donna di 83 anni che era sul suo scooter è stata falciata da questo auto impazzita e purtroppo ha perso la vita andiamo avanti e qui vediamo nell'articolo di Thomas Delbianco la rivoluzione delle scuole due anni per la Lighieri avanza l'ex Scarabocchio cantieri aperti e viabilità modificata in via Gattoni resterà chiusa 20 mesi e allora vedete lavori per 22 milioni scuola primaria Anna Frank 3,7 milioni scuola secondaria di primo grado Manzoni 5 milioni e poi 6,6 milioni la Dante Alighieri oltre 4 milioni la scuola dell'infanzia di via Rigoni a Soria scuola Santa Maria dell'Arzilla 450 mila euro poi la mensa della Pirandello 715 mila euro altri 450 mila euro per elementare Arca delle Colline entro la primavera l'intervento per la riqualificazione energetica che abbiamo visto poco fa e poi si consegnano i lavori anche per l'Anna Frank rimodulato il quadro economico portandola quasi 4 milioni e poi Pesaro raccoglierà l'eredità di Vangi un museo in dialogo con le sue opere Vimini annuncia chiaramente anche una collettiva a lui dedicata che verrà realizzata a breve oggi in Duomo alle 15 l'addio al grande maestro e chiaramente non può Pesaro non celebrare questo importante personaggio questo importante artista che appunto è vissuto tantissimo a Pesaro con sua moglie andiamo ancora avanti chiaramente non andiamo a rileggere le stesse notizie che poi chiaramente ritrovate anche nel resto nel Corriere Adriatico a Urbino Londèi fa il grande padre decalogo per chi vincerà il senatore rinuncia a candidarsi priorità a un nuovo PRG allo stop al declino il nostro alla vigilia delle amministrative non è un passo indietro bensì sono due passi avanti dice Londèi presidente dell'associazione Urbino Capoluogo alludendo alla sua scelta di non ripresentarsi alle prossime comunali allarmante spopolamento Gambini non ha fatto nulla queste sono le parole appunto degli esponenti di Scaramucci a supporto di Scaramucci e anche i candidati del Movimento 5 Stelle che andranno al voto e poi a Fano esposto contro la torrefazione bruciori per il cattivo odore la protesta dei residenti l'Asura aveva escluso attività simile perché c'è una scuola di vieto tolto dal comune e poi ecco anche qui la notizia della donna a 84 anni falciata dallo scooter siamo a Coglie al Metauro lo schianto per un sorpasso azzardato vittima Ornella Ordonselli di Lucrezia al volante dell'auto questo trentenne che è rimasto ferito a San Lorenzo in campo nove famiglie trovano casa con Erap Marche e Regione gli assessori Aguzzi e Baldelli li vedete qui hanno consegnato gli alloggi a San Lorenzo ed ora andiamo allo sport vis massima attenzione per tornare a vincere i biancorossi stasera devono battere la lucchese servono punti per la salvezza e mi state facendo vedere ci sono altri messaggi da leggere per caso no di messaggi della Pasqua non li abbiamo saluto chiaramente ecco per vedere sì saluto chiaramente tutti quelli che mi hanno scritto Nadia da Pantano eccetera e continuate insomma a scriverci il vostro come passate come festeggiate la Pasqua a livello culinario quali sono le ricette della tradizione oltre chiaramente alla crescita di Pasqua che magari molti di voi hanno scritto che mangeranno torniamo scusate mentre aspetto i vostri messaggi torniamo allo sport mancano cinque giorni alla fine sono tutte decisive vogliamo vincere ma dobbiamo pensare a prendere una alla volta cominciando dalla Lucchese così Simone Banchieri tecnico della Vis che stasera alle 20.45 ospita tra le mura amiche dello stadio Benelli i toscani che con 40 punti possono considerarsi tranquilli magari facendo un pensierino ai playoff quindi stasera la partita alle 20.45 allo stadio Benelli e poi la VL invece sonda il mercato società al lavoro per cercare di individuare chi potrà sostituire Totè nella corsa alla salvezza forse si deciderà di puntare su un giocatore extra europeo avendo ancora un visto a disposizione anche il mercato europeo ad oggi offre poco per non dire quasi nulla e quindi l'ipotesi più accreditata al momento pare essere quella di provare a puntare su un giocatore straniero e poi trasferta a Casale Amara per la Fiorini stiamo parlando del rugby in Serie A i giallorossi subiscono il controsorpasso il primo round va a Scandicci ma la Megabox lotta e allora il coraggio non basta la squadra di Pistola gara 2 sabato a Pesaro Scandicci 3 vale foglia 1 vedete quindi questa sconfitta ma andiamo a vedere anche le altre notizie VL tempo scaduto sabato senza pivot i termini per un nuovo tesseramento scadono oggi alle 11 falliti i tentativi per prendere un italiano resta la carta di un centro USA a Treviso senza pivot dice Elisabetta Ferri troppo poco il tempo a disposizione per chiudere la falla che si è aperta dopo questo infortunio terribile di Totè giocando di sabato i tesseramenti chiudono stamani alle 11 e i tentativi per riuscire a prendere un italiano al piano di sotto non sono andati a buon fine intanto sia i tifosi che la dirigenza stanno tentando di rianimare il paziente in queste settimane in cui il morale è finito sotto i tacchi ieri il club Tonucci ha invitato i giocatori per un aperitivo in un locale vicino all'arena in vista dell'incontro decisivo contro Treviso Serie B interregionale non basta l'accelerata di Rupi Loretto cede a Roma all'overtime quindi il Talservice Loreto 73 Virtus Roma 79 andiamo adesso e continuiamo a parlare di sport anzi scusate prima c'è il messaggio di Nicoletta sabato pomeriggio preparo la crescia di Pasqua per la colazione di domenica ma avanzerà anche per la merenda del pomeriggio io ho già iniziato a mangiare la crescia di Pasqua mi sono portata avanti con i lavori per pranzo antipasto con salumi e formaggi passatelli in brodo poca carne per secondo e molte verdure comprerò dei carciofi e delle bietole devo scegliere ancora i vini meravigliosa Nicoletta ci hai fatto proprio il menù pasquale alla perfezione grazie mille sicuramente si mangerà bene a casa tua con tutte queste cose buone allora stavo parlando di sport allora andiamo a vedere perché appunto oggi è giovedì una nuova puntata di Insieme a Canestro Regia mettiamo il cartello eccolo qua questa sera chiaramente una serata che sarà molto combattuta daremo molto spazio a voi tifosi che ci guarderete da casa come sempre ci guardate numerosissimi ci sarà Maurizio Crapanzano che è un tifoso della VL quindi chi meglio di lui può un po' interpretare dare una lettura di quello che sta accadendo oggi alla società e poi ci sarà Lorenzo Cortiglioni che è presidente del club Donucci Pesaro insomma siamo in diretta questa sera alle 21.20 non è un momento facile ma vogliamo sapere anche le vostre opinioni scriveteci 370-366-7210 potete vincere i biglietti per le prossime partite e chiaramente siamo in diretta sia sul canale 80 che sulla nostra pagina Facebook e poi il nostro telegiornale come sempre negli orari che ormai conoscete oggi ad esempio alle 13.30 potete vedere l'edizione di ieri sera e poi alle 20.00 stasera subito dopo la prima edizione del nostro telegiornale andiamo a Fossombrone e parliamo del ritorno degli amanti e l'itinerario della bellezza che sono protagonisti appunto in questa bellissima città ho detto tutto carissimi amici grazie per essere stati con noi noi ci rivedremo la prossima settimana perché domani ci sarà Daniele Sacchi poi sabato è il turno o di Marco Cadedu o di Antonio Assuti come sapete domenica è Pasqua lunedì è Pasquetta e quindi noi poi torneremo chiaramente con i nostri appuntamenti di informazioni martedì però stasera seguiteci e seguite la rassegna stampa fino a sabato grazie a tutti per i vostri messaggi che mi fanno sempre tantissimo piacere vi auguro allora buone feste e buon proseguimento di giornata e buon proseguimento buon giorno a questo giorno che si sveglia oggi con c'è buongiorno al latte dal caffè buongiorno a chi con c'è e al mio amore buongiorno per dirle che lei che per prima al mattino vede io vorrei è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te e buongiorno a chi buongiorno a chi Grazie a tutti.